e dal momento in cui avete superato il concorso, il Presidente della Commissione ha detto che tutti l'avete superato, siete i capi squadra del quarantesimo, mi sembra che il corso, no, confondo con un corso di istruttori, scusate, ecco la carta, voi siete capi squadra di correnza 1-1-2018, quindi calzando l'ermo sarete capi squadra effettivi, calzate l'ermo, grazie! Che bell'immagine, che bell'immagine, grazie a tutti e buona fortuna, auguri e bocca al lupo per il vostro lavoro! Grazie!